Sono io o qui fa un freddo polare? Vieni, metti questo. Il tuo giubbotto Letterman? Sì, oh. Senti freddo e allora... Sì, sì, è vero. Sto morendo. Brrr, che freddo. Beh, a più tardi. I miei splendidi occhi verde e smeraldo mi ingannano. Diggy ti ha appena dato il suo giubbotto Letterman. Hai fatto centro. Dai, non esagerare, Liv. Avevo freddo, non vuol dire niente. È evidente che gli piaci, Maddy. D'accordo, so di piacergli, ma pensi che gli piaccio piaccio? Io lo so, ma è sicuro che lo so, lo so. Ti ha dato il suo giubbotto giubbotto. Forse è un po' confuso riguardo ai tuoi sentimenti con tutti quei come va e i là e ben dentro che gli arriva, no? È così incredibile che ti stia ancora intorno. Digli che ti piace e basta. Non lo so, Liv. Credo che io e Diggy stiamo bene così. Parli come se ogni volta che lo vedo mi venisse un tuffo al cuore. Ehi, Rooney. L'abbiamo visto, il Fabrica Granite. Dovete restituirlo. Non lo troverete mai. L'ho trovato. Ghiaccio, fragola, panna montata, rime e granite, chiacchioppiata. Ho, 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 vuoi un assaggio? Adesso avete capito perché ve lo abbiamo nascosto. Mamma su FaceGab mi avrà chiamato per sbaglio. Mi piace l'idea di lasciare questa casa. Ci voleva un cambiamento? Lasciare la casa? Sul muto. Ora sentiamo loro, ma loro non sentono noi. Che cosa vuol dire, ci voleva un cambiamento? Mi pare ovvio. Vogliono liberarsi di te, Joey. Sarà una tragedia impacchettare tutta la roba e andarcene da questa casa. Hanno venduto la casa e dobbiamo traslocare. Traslocare? Non può essere. Certo, i ragazzi sentiranno la mancanza degli amici, ma so che adoreranno Madison. Madison? Madison è a due ore da qui, perciò dovremmo cambiare scuola. E non ci sarà nessun dì. Dobbiamo impacchettare tutto e lasciare la casa domani pomeriggio. Domani pomeriggio? Perché non ci hanno detto che cambiamo casa? Wow. Domani è il nostro ultimo giorno a Stevens Point. Inaccettabile. Bene. Voglio lasciare un segno. Sconfiggerò Artie e lascerò la scuola come indiscusso, re del razzo. Così, bravo, sei una fonte di ispirazione. Per nessuno. Ok. In quest'ultimo giorno tu che farai? Devo risolvere un paio di cosette. Meno sai, meglio è. Farò anche la popò a porta aperte, ma ho pur sempre i miei segreti. Sono stato sveglio tutta la notte per costruire questo nuovo razzo. È perfetto. Ci sono anche le decalcomanie degli alieni che salutano dagli oblò. Ciao, ragazzi. Visto che oggi è l'ultimo giorno, dirò a Diggy quello che provo per lui. Lo fisserò dritto in quei meravigliosi occhi scuri e dirò, Diggy, come va? Maglio un bigliettino. Nel mio ultimo giorno convinco la mamma che sto male, così resto qui e saluto la casa per bene. Ho una febbre da cavallo, 52 e mezzo. E sono ancora viva.